Musica E buon salve qui del vostro maestro Obi-Wan per Obi Benvenuti o bentornati sul mio canale Come sempre vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi In più per chiunque volesse un contatto diretto con me in descrizione trovate il link al mio server Discord Detto questo vi piace il sangue? Vi piace il West? Vi piace sconfiggere orde di nemici sovrannaturali? Bene questo è il gioco che fa per voi Evil West Come sempre vi ringrazio dell'attenzione e del supporto che mi date e vi auguro buona visione Bene ben ritrovati siamo esattamente dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio Oggi vedremo se effettivamente la mia previsione si avvererà Ovvero quel dirigibile ci cascherà addosso Mi sembra abbastanza scontato Devo dire che c'è un sacco di gente Mi dicevo mi ci farà parlare? No direi che parlano per i fatti loro mentre mi ci avvicino Come vedete sono tutto dorato mi sono cambiato tipo il colore dell'equipaggiamento Allora vorrei esplorare un po' gli intorni di questo posto perché non vorrei mai che ci sia qualcosa di segreto Tipo questo oggetto qui che lampeggia Mio Sì non mi interessa Sono delle note fa anche lo stesso gioco È vero fanno parte della trama tutto quello che vuoi ma Sono tutti documenti dei personaggi non mi interessa Sì il guante elettrico Ce l'ho Where the hell you been? Thought you got bitten by some tick? Some of those fangy fellas were hiding out in Providence That's why the President ordered the Western Borders secured Did you hear about those ones that grue Gravener's with you? He sends his regards He's afraid you'll try and talk him out of retirement again I don't believe either of us want that You know he did risk his life to get this for you That's Harrow's trinket E' sicuramente che tutti saranno benvenuti in modo che... Edger non c'è un civile che cercano una metà, questo è tutto quello che sapeva. Il tuo instituto è quello che sapeva. Il mio instituto? Questo non è riguardo a Agent Gravener, Jesse. Siamo sul cuspo di grande progetto, grande cambiamento. La presentazione di oggi è di importante importante per la famiglia, dopo cui... Edger è la famiglia. After which, I expect you to step up to your duties here at the manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things that work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. e se non, è la mia responsabilità di forzare questo cambiamento ora, faimi B sono così preparato per la presentazione e manda qualcuno in qui per rilassare questo messo così a occhio direi i soliti dissapori che ci sono in questi giochi un altro oggetto mio si, è tutta la roba sulla fondazione di questo posto vediamo se ce ne sono altri in giro devo parlare con questo tizio voglio un po' vedere ah, posso correre, ok ce n'è uno giù uh, soldi mi serviranno? boh, ancora direi che ora come ora mi servono a poco si, si, si poi me le leggo dai cavoli mie le note allora uh, allora cosa mi fa sbloccare? e questo cos'è invece? allora con questo posso sparare così ah, finalmente ah, sono una tipologia di abilità che posso utilizzare per andare a potenziare ecco cosa si usano i soldi carina come cosa questo ok e questo invece mi aumenta le tue ah, ok no non lo prenderò poi c'è la cosa che mi rende invulnerabile per le cure non penso di poterlo prendere no, esatto ok quindi il negoziante ti dà praticamente delle abilità ok va bene direi che i costi sono abbastanza elevati per delle semplici abilità poi ovviamente andando a sommarsi diventeranno potentissime direi che qua ci sarà la presentazione quindi buona visione al video per modo di dire ci sarà un sacco di roba parlata così a occhio gentlemen gentlemen if you'll take your seats and welcome I'm assistant secretary of war James Harrell President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Urentia Institute performs defending our great country from monsters of all shapes and sizes He also wanted me to make sure you're not Blowing all our money on Mexican Monty But that's another conversation Yes, quite Well, as I say, keep up the good work God bless you all and God bless America Thank you all for gathering here tonight It's rare we gather in such numbers But I believe great progress Calls for momentous celebration Our efforts in the fight against the sanguisuja's spread Have too often been baffled by the creature's most insidious weapon Their so-called glamours These impenetrable illusions have allowed countless fiends To slip through our grasp for too long That ends now Agent Rentier We've upgraded the standard field agent's gauntlet With something our science bods have affectionately named The Zapper Not exactly an elegant name But it does the trick When triggered The Zapper sends out an electrical impulse That chatters any nearby sanguisuja's glamours Worth with Eliminating what is not And leaving only what is Once finished These new gauntlets will be distributed To cells nationwide post-hate Allowing us to sweep our respective territories For glamoured nooks and crannies E ti pareva che il dirigibile Arrivava puntuale come un orologio Eccolo E' pieno di nemici Mi ci giocavo le mani Spero che adesso che mi ha dato il guante elettrico Finalmente riesca a ottenere le prime abilità serie Oh grazie gioco Allora Promile 1 Per bloccare Allora Ok Perfetto Scossa Va bene Ok questa devo risparmiarmela Allora Promile 1 Stato bloccato R1 Ok Quindi Praticamente E' una cosa che si rilascia Così Ok Per il momento Tipo solo una parata Fammi un po' provare Ok Eh vabbè Evviva la combo Ah guardiamo anche la combo Che ho appena preso Ok Uh figo Li posso tenere in aria Non fa tantissimi danni Ma tanta roba Che disastro Ma si ma dai C'era scontato Metti il dirigibile sopra Eh vabbè Ok Quindi se faccio Così No Così Va bene Non so che quello che sto per dire Sarà scontato Ma Gliobbier E qua Scorpion insegna Sì quanto quelli piccoli Così mi so però Mi sembra tanto Un po' troppo forte La cosa Adesso dovrò vedere Come interagisce Con quelli un po' più grossi C'è letteralmente In mezzo Un dirigibile Che E' in fiamme Cioè è normale Che ci sia il fumo Adesso Oddio A parte il fatto Che qui in mezzo Quelle parti lì di metallo Sono incandescenti Tipo Non è possibile Che tu fisicamente Possa passarci Solo per la temperatura Olle Cos'è Oh oh Un nuovo tipo di nemici Quello scoppia Ma ha tutta la vita Ah no mi tira Mi tira le bombe No che roba è Sì ok Faccio così Ah non posso Ok ho capito Devo sparare Ho sbagliato Ho sbagliato Allora Se sono giù così Me lo tiro addosso E ciao Vero su invece Non posso Ah sì ok Oh i cosi che volano Questi da ammazzare Sono facili Mi dice che c'ho Qualcosa dietro Cos'è Ah ci sono Ok No Ok Queste da ammazzare Sono inutili Le hanno messe Proprio solo Per dati fastidio Da che parte Dovrei andare io Ah c'è lì Il corso E c'è Qui No da qui ci sono arrivato Ok Allora devo andare di qua Olle Allora Signor cowboy Di qua Nulla Ok niente Olle Sarà rimasto vivo Qualcuno Ah per fortuna Andiamo a Sbaricciolare Qualcuno Sbaricciolare Qualche vampiro Qualcuno In giro Da prendere O qua Tunk È caduto un dirigibile Sono arrivati i vampiri Per forza Cioè Sono anche fortunati Semplicemente Essere sopravvissuti Cioè Un dirigibile Pieno d'elio Mentre Esplosione Cosa Devo fare Allora Cerca indizi Cavio Fili Per Ah Vedo il baraglio giallo Lì sopra Quindi devo seguire Questo filo qui E dargli corrente Qualcosa elettrico Ah no Devo solo attivarlo Perché è tipo Una porta Di sicurezza Sì Oddio Che brutta luce Che vedo Cos'è sto scatto A Alla faccia Cioè Del tipo Così Va bene Sta diventando Tantissimo Mortal Kombat Questo Questo gioco Già Va bene Muori Olè È fighissima Come cosa No Non l'ha agganciato Secondo me Se hanno troppa vita Oddio Pensavo di averlo lanciato Sulla TNT Minimale O Che mi sono fermato Se non hai Fatto troppi danni A nemici E non hanno Poca vita Non li puoi prendere O non gli puoi fare Lo scatto E shottarli Cos'è sta roba Sono pezzi di Sono teste Pezzi di vampiro Non capisco Mi sono testa Non sono fatte bene Per niente Ma Questo colore Mi sta uccidendo Le Le rettine degli occhi Allora Di qua Direi di lì Ma Questi versi Sono Le teste Ma sono vivi Oddio Che brutto posto Cosa devo fare Ah Ok Ok Hai gas Queste sono tutte cose di gas Oh mio dio Ok 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 Scusate se parlo poco ma Devo essere un po' coordinato No, ho miso per il suo punto Aia Ok 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 Va bene così No Casino Comoda Cosa Devo fare Ah ok Mi ha risposto il gioco Ok Non posso più tornare indietro così occhio Qui devo Ok Cosa mi ha dato? Ah dei soldi Devo andare a un ascensore A parte che Ah no ok Dicevo perché prendere un ascensore con Non è tutto così distrutto Non mi sembra proprio il caso E adesso che sono venuti di qua Da che parte? Ah di qua Ficchi l'aveva vista Ok Ole Vediamo in giro se c'è qualcosa Da prendere Ma non mi sembra Che di solito in questi punti qua C'è sempre qualcosa No Siamo tornati all'altezza Dirigibile Schiantato Qua c'è altra Roba Bella lì Oddio Qua ci sarà un boss Come mio No È un posto un po' troppo largo Eh Preciso No magari non è un boss Ma sarà qualcosina Comunque di Speciale Cos'è? Questo si che è un classico vampiro Dov'è? Classico vampiro Ma crede anche abbastanza in fretta No Però questi qua Diciamo che sono più vampiri Degli altri No Che pelo Sì livello 3 Ok Ah Posso prendere questa E basta? Cos'è? Allora Tieni per mutterle 1 a 1 Per saltare in avanti Oh figo Mi piace Dammi pure questo Sì Lo so Ah C'ho le cariche Fa vedere Ah ci sono due Ok Fammi vedere Figo Ho sbagliato Tasto Ma va bene lo stesso Parato Adesso è più comodo parare così Col fulmine Uff Ok C'erano un botto di roba e di TNT in giro Dov'erano Che le ho schivate malissimo Devo andare di qua Yes Vedo Ah ok Sono le cariche Dei cose E' ovvio Oh Salvi Andiamo avanti Vedo della gente Sono solo nemici? Direi di sì Bello Attacco d'aria Comodo Pianta di tu E tu le maledettissime Bombe Aia Oh cos'ho schivato No Comodo No ponemilo Niente Uh Ci sono troppi di quelli che fanno le bombe Cosa mi levano? Oh per fortuna Che casino Mi scuso se si capisce poco Ma Sta diventando abbastanza Difficile muoversi Ok Ho tutto Uh C'è stato un attimo Che i nemici mi levavano Un pelo troppo No dovevo andare Ok di qua Scusate Perché devo passare di lì E non posso passare di qui Ehm Lasciamo perdere Alcune scelte Le concediamo Le concediamo Che porto suono Ecco appunto Che cosa è questo? Che cosa è questo? Dovrebbe esserci Non dico un boss Ogni fine livello Ma Vediamo un po' Quanto sarà bello Il boss di adesso Mi sembra di avere tante punte E la bambina Scrivete il proiettile Eh vabbè Boom Aia Mi sa che sta per scoppiare tutto Appunto Appunto E gli ha dato un cartone A faccia Tanto non è morta mai nella vita Cioè è palesemente viva Con quel potere lì Appunto Ah quindi lei è il capo Molto molto male Quando c'era da battere Lei c'era Un bel problema Un bel problema Movedi Revener Io ti ordino Non mi lascio morire Come questo Eh Eh Mi sembra Mi sembra Se fosse per questa 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 Oh Oh Jesus Christ Non si è vecchio Sì Non si è vecchio Non si è vecchio Ora Non si è vecchio Non si è vecchio Non si è bene Non mi sono Questo è il clave Jesse Non non lo scopo Non lo scopo Non lo scopo È tutto ciò che abbiamo È tutto ciò che abbiamo È in voi È in voi Niente stop stop we need to get the fuck out of here we need to find a defensive position to hold us over till morning then we head to calico my wife could blow this defensive position over with a wet fart we need the higher ground that's where the sun hit first i'll get the horses and we'll stand out ground up there una doppietta questa è cattiva usa con quadrato un altro oggetto da aggiungere già tutti quelli che ho da attivare va bene va bene no però ma finchè ci sono sti qua piccoli a vedere annuncelo attiva si ricaricherà si si ricarica anche la doppietta ok cerchiamo di ammazzare quelli no mano ok pensavo fosse la dinamita del tizio ah no ci sono i vampiri quelli fastidiosi quanto mi levano le bombe aia hai finito ok muori scusate si gioco un attimo da visuale ok non c'è nulla no ho scherzato quadrato perché normalmente in altri giochi a cui gioco si carica con quel tasto allora c'è qualcosa da raccogliere in giro in giro direi di no forse qua ah no è uno di quegli oggetti che brilla no che non serve a niente cos'è cosa mi ha dato e vabbè più veloce mi ha dato qualcosa oddio con questo com'è ah ok vabbè posso colpire anche questi così non mi sembra molto giusto comunque quindi posso fare così stonk e poi tunk e mi sembra un po' zagerata come combinazione perché mi paro faccio cos'è e c'è un mostro grosso però questo vuol dire che andando avanti ci saranno mostri ancora più grossi perché se mi permetti di fare tutte ste combo oh oh che cos'è sta roba qui allora ah se no non posso danneggiarlo oh 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 dai oh ok via dai grazie per la vita Ogni tanto non Non prendi i tasti per schivare Aspettiamo un attimo la cura Ho rischiato malissimo di morire Muori Scoppia Boh Allora Direi che si può andare avanti Non ci sono oggetti Salito di qui Quanti ce ne sono Ok Cosa devo fare? Ok Sento vampiri ma Non mi sembra che stiamo venendo in qua Penso che dovrò scappare Ecco su di qua C'è un po' troppa gente Gioco? Ok Mi avevo parlato anche prima Ok Comoda L'attacco in salto così Troppa gente Meno male che io ero in combo E non mi ha fatto danno Il coso Un po' troppa gente Ah ok Mi sembra strano che ci fossero troppi vampiri Ok Cosa succede? Quindi Oh oh Cosa? Eh vabbè Va bene Va bene Ok Modalità Raiden Attivata Va bene Ok Alla faccia Alla faccia È la classica modalità super mega hiper Tipo furia Quella che c'ha Kratos Quella che c'ha Nussi Un sacco di giochi Alla faccia Alla faccia Alla faccia Rock Rock We need help Lewis Protocol Epsilon Sit down and roll up your sleeve We will save your father Mr. Rentier Savages Hey 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 It's fine He's the cell's engineer Virgil Virgil only It's an honor to finally meet you in the flesh Sir Your gauntlet is a thing of beauty Only a genius could I need that fixed Yesterday I'll need a bigger lab if I'm gonna solve the mysteries of time travel sir I mean How are we doing Harrow needs a scapegoat He won't leave without someone to blame for that fiasco Pissed off little highborn looking for her maker's head No one could have predicted that I don't think she did all that for just a bono We're missing something I bet my last buck will heal more from this Felicity tick pretty soon I'm gonna check if Amelia needs some backup with Harrow Who do I have to bend over this bar and indiscreetly fuck to get some coffee around here What a day See you in the briefing room Ok Direi che Possiamo finire qui per oggi perché questo video sta durando anche troppo Direi che adesso come vedete dal mio guanto elettrico siamo iperpotenti Stavo notando e guardando che le abilità sono veramente veramente forti Possono anche sbloccarne delle altre vedrò quali prendere Però devo dire che se il personaggio può arrivare ad avere questa potenza e soprattutto questa velocità di utilizzo Con tutte quelle che sono le sue abilità Come vedete sono veramente veramente tante Legate a qualsiasi dinamica sia scatti, salti, vari colpi Secondo me si arriva a un punto dove ci saranno talmente tanti nemici Talmente tanto potenti che sarà un delirio Detto questo direi che per oggi qui dal maestro Bianperobby È tutto come sempre che la forza sia con voi Ci vediamo ad un prossimo video Ciao